San Zenone Po e Uggiano, la chiesa comune del Salento, sono ufficialmente gemellati nel nome di Joan Brera. Alla base di questo incontro di culture, la comune passione dei rispettivi territori per l'opera del grande giornalista nato a San Zenone nel Pavese, ma amato e celebrato un po' ovunque in Italia e in particolare proprio ad Uggiano, la chiesa in provincia di Lecce, dove da alcuni anni, per volontà dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Piconese, va in scena il Festival dell'Arcimatto Gianni Brera fra giornalismo e letteratura. Il Festival dell'Arcimatto è una rassegna culturale che ormai va oltre i confini del Salento, è una vera e propria sfida culturale che porta il nome della nostra città sui circuiti del mondo della cultura e del giornalismo nazionale. Poi quest'anno, con la sottoscrizione del patto di gemellaggio con il comune di San Zenone al Po, crediamo che l'organizzazione della terza edizione, cioè quella del 2019, che coinciderà con il centenario della nascita di Gianni Brera, possa essere un'occasione importante, un'opportunità importante per rafforzare i rapporti civili, istituzionali e culturali con la Lombardia e soprattutto con la provincia pavese. Queste esperienze sono importanti perché rappresentano uno strumento importante di promozione del territorio e poi perché no, prendere come esempio un piccolo comune del sud di 4.500 abitanti dal nome Uggiano La Chiesa che fa delle politiche culturali, uno straordinario strumento di sviluppo, di crescita. Quando è venuto qui per la pacciada ci ha fatto visita in comune, abbiamo passato una bella giornata, gli abbiamo fatto vedere il nostro piccolo museo che abbiamo in alto vicino alla biblioteca, alla sala Brera e a quel punto ci ha proposto un gemellaggio. Ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso in consiglio, che la cosa è piaciuta, ma è piaciuta soprattutto perché questo dà un po' la dimensione del personaggio Brera che, vabbè, ormai lo sappiamo tutti, non si può circoscrivere alla sua pianariva a Pavia, alla Lombardia. Oramai Brera era diventato un personaggio di livello nazionale nel campo del giornalismo sportivo e non perché Brera non era solo un giornalista sportivo, è stato anche un grandissimo, un bravissimo scrittore.